buongiorno buongiorno a tutti buon mercoledì oggi si gioca la partitona col wosburg quando si è 18 mi ha sempre la in austria poi si torna a milano dopo di questa partita oggi c'ho il cane che tira c'ho il fuffa che ha deciso di far sul giro con me stamattina non è mio però facciamoci un giro con fuffa fuffa dai non si chiama fuffa non so come si chiama ma si chiama i bandi indifferentemente allora signori per ricominciare un like al video un commento se vi va per discutere quello che andiamo a parlare oggi ci sono argomenti interessanti secondo me che vanno affrontati anche oggi ea telenovelas milan d'estate nuova serie solo su reti a cimila style dopo di questo se vi va in descrizione vi scaricate l'auto di one football che è l'agglomerato di notizie della scuola del cuore quindi tutto quello che è il mercato notizie in diretta squadra quindi potete vedere addirittura i cambiamenti della rosa in più potete anche seguire da dentro risultati in tempo reale quindi se non riuscite a vedere la partita andate a guardarvi la l'app in diretta e lì potete trovare direttamente il risultato mamma che cambia secondo per secondo sostituzioni ammoniti tutto là allora cosa succede abbiamo prima di tutto un nuovo partner il nuovo partner cosco praticamente è una app di fantacalcio che non è fantacalcio è una cosa simile più passato su americano con la nfl è una prestazione che praticamente funziona così sono delle carte intercambiabili le quali praticamente hanno un valore e lì ti trai la tua squadra quindi quest'anno andiamo a fare parte di questo tipo di fantacalcio che si usa più di più in america sicuramente che qui in italia o in inghilterra non è una cosa che conoscevo scoperto adesso che ho visto appunto l'entrata di questo nuovo sponsor per il milan interessante ci sta sono sempre dei televisivi diritti che vengono utilizzati appunto per creare nuovi margini di profitto non so come verranno spesi probabilmente per far intascare eliot qualche soldo in più quest'anno a parte questo allora siamo partiti dal discorso CDK in settimana in settimana in settimana intanto a telenovela va avanti e noi continuiamo a parlare della fuffa del nulla come lui la fuffa si è seduto non cammina più fuffa fuffa dai fuffa ma hai detto cane dai cammina fuffa e quindi volevo dire il problema si va a porre su questo punto quando quando ci troviamo ad avere una dirigenza con una trattativa che va avanti da mesi e non si completa allora il mio punto è questo io non dico che non ci stanno provando probabilmente ci stanno anche provando con questa cosa ma ci deve essere qualcosa che ovviamente sta fermando il risultato sta fermando l'arrivo di questo giocatore sta fermando il nostro mercato e non voglio puntare subito il dito dicendo è sicuramente quel magnate di eliot che si sta intascando tutto è una possibilità molto concreta onestamente però non è neanche da dire è per forza così potrebbero esserci determinati fattori nel mezzo che non fanno finire la trattativa con CDK potrebbe essere però voi mi direte allora se CDK non funziona perché non andiamo su altri giocatori domanda intelligente con la risposta che vi darò meno intelligente dicendovi probabilmente è una questione economica il nostro mercato è come fuffa così fuffa andiamo fuffa fuffa resta qui e noi rimaniamo in mezzo della strada è meglio così allora vieni qua maledetto cane vieni qua vieni in braccio fuffa no fuffa detto che sta qui e io lo trascino perché mi ha rotto le balle allora a parte il discorso CDK io volevo aprire un attimo l'ultima parte del video parlando di quello che succede con l'inizio del campionato perché perché nella live di sabato abbiamo parlato appunto di quanto non siamo preparati ad affrontare le altre squadre come inter e juventus e come to anche la roma in quest'anno perché? perché queste tre squadre soprattutto le prime due che ho nominato hanno i ricambi necessari per far girare la rosa per più competizioni cosa intendo? Champions League, campionato e Coppa Itata noi invece non abbiamo questo tipo di cosa perché non l'abbiamo? tanto fuffa siamo assi perché non l'abbiamo? perché non siamo messi ad affrontare il mercato in maniera giusta quando è stato il momento cosa voglio dirvi? è semplice non vi sto dicendo siamo andati a ramengo non è questo è finito non ce la faremo sto però dicendo che la società l'anno scorso ha visto che c'erano buchi molto seri sulla tre quarti perché l'ho visto io l'avete visto voi l'avrò visto anche loro immagino anche fuffa probabilmente l'ha vista se loro si sono resi conto che questa cosa sta succedendo quindi abbiamo margini di miglioramento in quel settore perché al momento abbiamo giocatori che non portano a casa il risultato e non hanno ancora fatto niente allora la domanda si sporge spontanea perché non compriamo nessuno in quell'area di campo quando sappiamo che però per noi è come loro? risposta perché come abbiamo detto all'inizio del video non sappiamo esattamente cosa egli oddiavolo stia facendo però vi do una rassicurazione una rassicurazione ve la do io vi dico che ovviamente serve un centrocampista un attaccante quindi un trequartista che possa farsi la destra perlomeno o la trequarti centrale e ci serve un difensore giusto? questi tre secondo me in una maniera o in un'altra arriveranno non so dirvi né come né quando però secondo me arriveranno perché probabilmente è l'unica cosa che Maldini si è assicurato per questa stagione immagino e spero per lui perché se così fosse e così non fosse penso che quest'anno avremmo da farci sentire parecchio più del solito intanto per il prossimo episodio della telenovela ci vediamo domani mattina un saluto un abbraccio e forza Milan un saluto 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 un sal